Poi Rocky, vabbè adesso senza citare quelli che abbiamo messo noi, se tu dovessi fare una tua top 5 dei più grandi film di sport? Momenti di gloria lo metterei sicuramente, metterei anche un film che mi appassionò tanto, di cui non ricordo il titolo, forse mi può aiutare, quella partita a pallone, c'era Michael Caine, Pelé che recitava come attore, come si chiama? Abbiamo messo una classifica, Fuga per la vittoria. Fuga per la vittoria lo trovo straordinario, insomma sono quelli, non si scappa, Rocky ne metterei anche un paio, non dico dall'1 al 4 ma un paio c'entrano di dito.